Ciao sognatori e benvenuti in questo nuovo video Io sono Eld e oggi in questo video ASMR in italiano Sono qui per rilassarvi Andrò a fare vari suoni, sarà un video un po' misto giusto per rilassarvi, rilassarvi, rilassarvi Dunque, mettetevi le cuffie e gli auricolari per ascoltare meglio Iniziamo 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 Come state? Spero bene, spero stiate molto, molto, molto bene, spero tu stia bene, sognatore, tu che stai guardando questo video, tu, 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 qui ho un pennello, questo non è un pennello scrausa, questo è un pennello di quelli buoni, che uso per dipingere. Tapp, 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 tapp. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tata, tata, tata. Tata, 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 tata. Tata, tata. movimento delle mani movimento delle mani movimento delle mani e facendo ascoltare sono alcuni dei miei trigger preferiti da orecchio a orecchio eating 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 ad eating eating a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un mix di suoni per farti rilassare. Relax per te. 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 I cavalli. Non so a te, ma mi piacciono tanto i video di vari suoni. E mi piace anche alternare il soft spoken al whispering. Mi piace molto giocare con la voce. Ognuno di noi ha bisogno di sogni per vivere. Ognuno di noi ha bisogno di sogni per vivere. Grinkle sound. Suono della plastica. Uno dei miei suoni preferenti. No. Non so. No. il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 ma quanto profumano le matite? oh quanto è bella scura questa mamma mia sembra un pastello bellissimo ebbene sognatore io ti saluto spero che questo video ti abbia rilassato ti mando un bacione grazie per aver guardato questo video sei una persona speciale bye bye